Come sono finito in un red carpet a Sanremo? Ora ve lo spiego Sono partito molto presto la mattina, ho fatto molte ore di treno E poi sono arrivato nell'iconica Sanremo Sono corso subito nella bellissima Villa Nobel Sede dell'Oltre Festival E dove Motorola, grazie al quale sono qui Ha un corner dedicato Sempre qui ho assistito all'intervista di tutti i cantanti in gara Sono poi andato in hotel a cambiarmi per la serata Era pazzesco, aveva pure la sauna in camera Ed eccomi qui, ovviamente la sobrietà l'abbiamo lasciata giustamente a casa Che era la bellissima e buonissima cena di gala In cui abbiamo guardato tutti insieme il festival Ci siamo divertiti tantissimo Qui io sausto che vado a dormire e Sanremo mi ha dato il buongiorno così La giornata era stupenda, sembrava estate Ho assistito ad altre interviste di cantanti e pranzato tutti insieme Purtroppo la mia avventura a Sanremese è già finita Infatti eccomi qui triste di tornare a casa Un grazie va ovviamente a Motorola che ha reso tutto questo possibile Grazie a tutti Grazie a tutti